Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest Ecco, non proprio Perché, come potete vedere Mmm... Bug enorme No, non è un bug ragazzi È successo un gran casino Nel senso che Ieri stavo registrando l'episodio regolarmente E a metà della registrazione si è frizzato tutto il computer E dopo tipo una ventina di minuti sono stato costretto a spegnerlo forzatamente Con queste conseguenze Questo è il nostro bellissimo mondo, insomma Cioè, è tutto completamente bugato così Quindi, non posso fare assolutamente niente Per oggi, oggi mi spiace, non uscirà il video di Mindtest Domani ci sarà un altro video, però È un video brevissimo Ma vi chiedo di dargli un'occhiata Di scrivere un commento So come risolvere E ho una buona idea per risolvere Il problema, l'unica questione è che Perdo il salvataggio dell'inventario Questo è quanto Il mondo? No Cioè, rimane esattamente come l'avevamo lasciato insieme Ma l'inventario verrà perso del tutto Quindi, vi chiedo qua se mi autorizzate In creativa A rigivarmi gli oggetti che ho perso Perché Appunto, alcune cose erano parecchio complesse Tipo il Prospector Avevamo perso un sacco di tempo per farlo Anche il mining drill Le varie bag Eccetera, eccetera Secondo me Mi sembra una cosa legittima Visto che non è stato un problema mio del gioco Cioè, non è stato un problema interno al gioco È stato un problema esterno, diciamo Direi che mi sembra legittimo Il fatto di Givarmi il tutto di nuovo indietro in creativa Ho un'immagine dell'inventario Dal video che stavo registrando Quindi so esattamente che cosa c'era E niente Quindi mi guiverò solo quello Niente di più, niente di meno Vi invito a scrivere un commento appunto E vabbè, niente mi piace E balle vari Anche perché questo è un video semplicemente di spiegazioni Io mi scuso tantissimo Non so se riuscirò a riparare Entro la prossima settimana Questa cosa Ma visto che sono abbastanza impegnato Vedrò cosa succede Se mi seguite sulla pagina Facebook ufficiale Del canale Di cui il link in descrizione Probabilmente scriverò degli aggiornamenti Anche là Cioè no, probabilmente scriverò degli aggiornamenti là Quindi mettete mi piace per seguirmi E per saperne di più Noi ci vediamo col prossimo video domani E ci vediamo poi con Child of Light lunedì Ciao a tutti